A tutti voi buona giornata e bentrovati a questo nuovo appuntamento in diretta. Con a voi la linea. L'avete sentito nel corso del nostro telegiornale, c'è grande attesa anche in Friuli per le decisioni che riguardano la realizzazione del nuovo ponte di Genova, crollato alla vigilia di Ferragosto. Tra i vari progetti sul tavolo, tre sono targati Friuli Venezia Giulia con Fincantieri, Cimolai e Decker. Proprio oggi comincia il lavoro della commissione tecnica chiamata ad analizzare le varie proposte pervenuti. Allora ci colleghiamo subito in diretta con il nostro Daniele Micheluz che si trova a Porcia davanti proprio alla sede della Cimolai. Buongiorno Daniele. Buongiorno Alessandra, ebbene sì, sono stati resi noti i progetti con i quali Cimolai partecipa alla gara per la ricostruzione del ponte Morandi e ne ha presentati ben quattro, tre dei quali sono in collaborazione con l'architetto Santiago Calatrava che è un architetto assolutamente di fama mondiale con la quale poi Cimolai ha già lavorato in passato. Questi quattro progetti sono stati spiegati in un video che poi vi faremo vedere, pubblicati proprio durante il weekend. Sono progetti diversi tra loro ma tutti quanti che hanno nell'essenzialità il loro punto di forza. Un primo progetto è quello denominato Ponte Cristoforo Colombo che prevede sette campate di 125 metri ciascuna. È un progetto tutto in acciaio, un ponte continuo e naturalmente nei suoi punti di forza c'è un basso costo, se basso lo possiamo definire in relazione all'opera, per la realizzazione, tempi rapidi per la ricostruzione e soprattutto una possibilità di una manutenzione che non incida particolarmente nei costi. C'è poi un secondo progetto realizzato sempre dalla Cimolai, il Ponte dei Pescatori, cosiddetto con campate molto più grandi, 140 metri e anche questo poggia su dei piloni tutto in acciaio, più o meno sono due ponti abbastanza simili. Quello che è diverso è il terzo ponte, il cosiddetto Ponte Mediterranea 2, che è un ponte molto bello dal punto di vista del design perché ha un grande arco centrale e ha la caratteristica di poggiare a terra soltanto in due punti e questo darebbe la possibilità di lavorare nella parte sottostante in maniera molto più libera. C'è poi un quarto progetto che non è firmato dall'architetto Santiago Calatrava ma è di progettisti interni della Cimolai, è un ponte con campate più piccole, circa 50 metri, anche questo tutto in acciaio e ha una caratteristica importante e cioè potrebbe essere prefabbricato, almeno per quanto riguarda l'impalco, tutto negli stabilimenti della Cimolai. Bene, con questi quattro progetti Cimolai ha partecipato alla gara, tutto in mano alla Commissione, al Commissario straordinario Bucci e come bene dicevi tu l'iter è iniziato proprio oggi, stanno esaminando i progetti, alla fine di questa settimana molto probabilmente verrà stilata una sorta di short list, cioè verranno presi quei tre o quattro progetti principali e ci sarà un colloquio da parte della Commissione del Commissario assieme alle aziende di questi tre o quattro progetti e poi verrà scelto quello finale. Il Commissario Bucci ha anche fatto sapere che lui vorrebbe firmare il decreto d'appalto il 14 di dicembre, quindi di fatto in tempi molto stretti. Possiamo anche dire che la Cimolai ha lavorato molto nell'ombra perché nei progetti Rizzani Decker, quello della Fincantieri con Salini in pregillo a firma Renzo Piano, Pizzarotti insomma avevano già svelato nel dettaglio abbastanza quelle che erano le loro intenzioni mentre invece si è saputo, e noi lo abbiamo detto praticamente per primi alla fine della scorsa settimana che Cimolai concorreva con Santiago Calatrava e i dettagli che sono emersi in questi giorni insomma sono stati tenuti nell'ombra, infatti Cimolai non vuole rilasciare dichiarazioni almeno finché non ci sarà questa prima manifestazione di interesse da parte della Commissione questo per dire anche che Cimolai nell'ombra piano piano è riuscita a creare non uno ma addirittura quattro progetti e da quello che filtra questi progetti hanno colpito in maniera molto favorevole la Commissione perché sono progetti, come dicevo prima, tutti in acciaio che hanno oltre che minori costi per la realizzazione e anche bassi costi di manutenzione, questa potrebbe essere l'arma vincente naturalmente anche il progetto di Fincantieri Renzo Piano è sotto i riflettori perché è in pole position anche questo per riuscire a spuntarla bene, allora io vi ho raccontato alcuni dei dettagli tecnici che sono usciti dalla Cimolai e adesso direi che è il momento di vedere questo bellissimo video che l'azienda ha realizzato che molto bene spiega quelli che sono i progetti con i quali Cimolai spera di poter dare una mano a Genova e di riuscire a ricostruire il ponte ultima cosa che volevo dire però il commissario Bucci non si è sbilanciato sul fatto di un appalto unico ovvero sia non è detto che chi demolirà il ponte anche lo ricostruirà potrebbero esserci due appalti diversi, uno per la demolizione e l'altro per la ricostruzione naturalmente Cimolai concorre soltanto per la ricostruzione per questo collegamento da Porcia è tutto e io vi lascio alle immagini di questo video realizzato da Cimolai e io vi lascio alle immagini di questo video realizzato grazie a tutti 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 Queste dunque le proposte di Cimolai, targate Calatrava per la ricostruzione del ponte di Genova. Seguiremo nelle prossime ore, nei prossimi giorni, l'evoluzione e le scelte, le decisioni della Commissione Tecnica. È arrivato il momento di presentarvi l'ospite che ci ha raggiunto in studio, è con noi Cristiano Schauli, neoproclamato segretario regionale del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia. Grazie per essere con noi e intanto congratulazioni. Grazie a voi e buongiorno. Allora, si riparte da Gorizia, si guarda al futuro con obiettivi ambiziosi e ci pare di capire dopo aver messo da parte ogni possibile alibi. Assolutamente sì, abbiamo fatto una scelta anche che può dare un segnale di un esempio a livello nazionale, non abbiamo tempo da perdere, siamo convinti che in questo paese e anche in questa regione serva a costruire un'alternativa. E l'alternativa si costruisce anche dando dei segnali. Noi abbiamo pensato che il segnale dell'unità e la capacità di mettersi subito al lavoro sia la prima richiesta che i cittadini ci fanno e ci chiedono in questo momento. Qual è lo spirito che vi anima? Ma lo spirito è quello di una comunità che è viva, è propositiva e che in qualche maniera prima di tutto deve pensare alle elezioni europee, che sono alle porte e ai 118 comuni che vanno al voto in questa regione. E sull'Europa io penso che si giochi anche una buona fetta del futuro della nostra regione, perché a fronte di proposte sovraniste e nazionaliste rischiamo di diventare davvero periferia dell'impero. Questa regione è profondamente europea sia per storia ma anche per prospettive future. Gli investimenti dal punto di vista della logistica, dello sviluppo economico sono fortemente legati all'internazionalizzazione e all'Europa. E quindi su queste sfide noi non abbiamo un secondo di tempo da perdere e credo che questa volta la comunità del Partito Democratico di questa regione l'abbia dimostrato. Si è parlato molto anche del fatto che il PD regionale vuole smarcarsi un po' dalla direzione nazionale, con la quale in passato sappiamo che il legame era particolarmente forte e stretto. È questa la strada? Anche in passato abbiamo sentito tantissime dichiarazioni di partiti autonomi, ma lo sentiamo anche in questi giorni. Poi dalle parole bisogna passare i fatti, bisogna dimostrarlo nei gesti concreti e nelle scelte. Noi l'abbiamo dimostrato facendo un congresso regionale con i tempi che ci siamo dati, facendo le scelte che abbiamo dimostrato di fare ieri e quindi già nei fatti dicendo a Roma che noi siamo autonomi nei nostri percorsi. Poi oltre a dimostrarsi autonomi e a citarsi come autonomi bisogna tornare a mettere centrali, e io sono per farlo da subito, i temi del federalismo, della sussidiarietà verticale e delle risorse negli enti più vicini ai cittadini. Si è molto discusso in questi giorni anche del rapporto con il Veneto, con Zaia, tra Fedriga e Zaia? Beh, se ne è discusso perché l'abbiamo posto anche noi all'attenzione. Registriamo che i temi della specialità e dell'autonomia in questa regione sono assolutamente spariti. Registriamo che dopo grandi e roboanti dichiarazioni di risorse che dovevano arrivare da Roma, non abbiamo visto assolutamente ancora niente e anche le risorse destinate per le tragedie drammatiche che abbiamo visto nelle nostre montagne sono assolutamente insufficienti se non ridicole. Allora, noi abbiamo bisogno di recuperare autolevolezza e mi sembra che troppo spesso il nostro Presidente della Regione diventi davvero il ventriloquo di Zaia. Si fanno iniziative con Zaia, si condivide il turismo con Zaia. Io sono per una buona relazione con i nostri vicini, con tutte le regioni a noi vicine e anche con le province autonome di Trento e Bolzano, ma sono anche per rivendicare il ruolo internazionale che questa regione ha sempre giocato e su cui è sempre puntato, quindi l'Alpe Adria, quindi i nostri vicini sloveni, carinziani e istriani. Ci fermiamo, facciamo una pausa per la pubblicità poi di nuovo in diretta ancora con Cristiano Schauli. Di nuovo in diretta con a voi la linea, ancora in studio Cristiano Schauli, proclamato a Gorizia segretario, nuovo segretario regionale del Partito Democratico. Andiamo subito alle cose concrete e agli impegni anche di questi prossimi giorni. Si è tanto parlato di riforme e contro riforme, in particolare per il settore degli enti locali e poi la sanità. E' proprio la sanità che è al centro delle prossime sedute dell'Aula a Trieste. Sì, io faccio entrambi davvero davvero fatica a chiamarle riforme, sia quella della sanità che quella degli enti locali. Quella della sanità che va in aula da domani è una risistemazione di contenitori, non c'è una riga nel testo che parli di politiche sanitarie, che parli di una regione che è fra le più anziane d'Europa, che parli di continuità delle cure, di miglioramento e di risposta di salute ai cittadini. Non c'è niente di tutto questo. Semplicemente si riorganizzano i contenitori, umiliando alcuni territori, in particolare l'Isontino e l'Alto Friuli, ma non c'è davvero niente di politica sanitaria. Sugli enti locali, anche qui, abbiamo capito la furia distruttrice rispetto alle UTI, siamo assolutamente disponibili ad ascoltare nuove proposte, ma quello che vediamo è ancora tutto in divenire. Si dice che ci saranno delle nuove province, non sappiamo quante saranno, se saranno tre e quindi sostanzialmente facendo scomparire solo Gorizia, se saranno quattro dando risposta alle richieste di autogoverno della montagna, se saranno otto. Non abbiamo nessuna idea ancora di qual è la visione di prospettiva sugli enti locali di questa giunta regionale. Facciamo un passaggio più in là. Si parlava prima di elezioni europee, parliamo di Europa e come l'Europa sta guardando a quanto accade nel nostro Paese. La manovra del cambiamento in particolare. A proposito di contenuti, tutti rimangono in attesa di capire riforma delle pensioni e reddito di cittadinanza, effettivamente dei quali si parla ormai da mesi, che contenuti abbiano? Ecco, qui veramente io penso che in Europa e in altri paesi stiano sorridendo, per non dire ridendo. Siamo a dicembre e noi non abbiamo ancora chiarezza sui numeri e sulle scelte, né della finanziaria nazionale né della finanziaria regionale. Ogni giorno cambiano le ipotesi, parte o non parte il reddito di cittadinanza, quando parte, parte o non parte il quota 100, con che penalizzazione. Io credo e sfido chiunque ad oggi ad avere chiarezza su quello che sta avvenendo, sia sulla finanziaria nazionale che su quella regionale, perché non ci sono i numeri in questo momento. E quindi all'Europa, su cui noi siamo spesso abbastanza aspri e reclamiamo più diritti, più visibilità e più riconoscibilità, dovremmo anche dimostrare di essere in grado di governare. E in questo momento credo che stiamo dando davvero un brutto esempio di noi stessi. Un ultimissimo passaggio. Tra i vari mea culpa che abbiamo sentito da parte degli esponenti del PD, dopo le varie disfatte agli appuntamenti elettorali, c'è quella di una distanza dalla base. Quindi si è tanto parlato della necessità di recuperare un rapporto positivo con i cittadini. Ecco, concretamente su questo punto come avete intenzione di muovermi? Questa è una domanda giustissima che divido velocemente in due. La prima è che noi dobbiamo pensare e convincerci che l'attività amministrativa è fondamentale ed è importante, ma l'elemento della velocità non è un elemento qualitativo. Non è che se fai una riforma prima degli altri sei il migliore della classe. Noi abbiamo bisogno di un confronto continuo con tutti i portatori di interesse, con i cittadini, rispetto alle riforme che andremo a fare. Questo significa anche però continuare a farle le riforme, ad essere dei riformisti e progressisti che si assumono la responsabilità delle scelte. Dall'altro lato dobbiamo anche capire che dobbiamo tornare ad ascoltare tutti. L'esempio del congresso di questi giorni è fondamentale, nel senso che uno dice ci siamo veramente persi troppo, abbiamo perso troppo tempo a farci legare fra di noi. Secondo me il compito di un partito è vincere le elezioni, non vincere i congressi. Noi dobbiamo da subito tornare nei luoghi in cui c'è energia, nelle fabbriche, come dai nostri piccoli imprenditori, come dalle persone che lavorano ogni giorno e confrontarci con loro. Allora ringraziamo Cristiano Schauli, naturalmente buon lavoro. Grazie a voi. Sarà un lavoro impegnativo. Grazie per essere stato con noi. A questo punto noi ci trasferiamo con il nostro Alfonso Di Leva a Trieste, nella sede della Banca d'Italia, dove si celebra un importante anniversario, dove oggi sono state presentate delle iniziative che interesseranno il prossimo fine settimana. Sentiamo. Siamo nella sede di Trieste della Banca d'Italia con il direttore della sede Luigi Bettoni e con il vice direttore Ciro Schioppa per un evento assolutamente unico e particolare. Stiamo qui per celebrare un compleanno, un centenario, perché il 2 dicembre del 1918 la Banca d'Italia cominciò ad operare a Trieste. Erano anni particolarmente difficili, la guerra era appena conclusa e la condizione di Trieste e dei suoi abitanti erano estremamente diversi da quelle di oggi. È vero direttore? Certo. Infatti il generale comandante della piazza, Petitti di Roreto, si accorse subito che era necessario un aiuto per cercare di porre ordine finanziariamente in Trieste e nella zona circostante. Questo perché la Banca d'Austria-Ungheria insieme alle principali banche austriache avevano evacuato la piazza portandosi dietro anche le casse. A Trieste la popolazione era improvvisamente aumentata perché erano affluiti tutti i prigionieri italiani del regio esercito che erano stati internati dagli austriaci nelle zone dell'Austria e dell'Ungheria, quindi più di 100.000 persone erano affluiti qui e i triestini stessi erano rientrati dopo il servizio militare e erano ritornati in città. La città era alla fame perché c'era stato un blocco navale fino alla fine della guerra da parte della marina militare italiana e quindi le derrate alimentari scarseggiavano sulla piazza oltre a scarseggiare la valuta e comprensibilmente ad avere tutta una serie di problemi economico-finanziari che coinvolgevano anche le imprese locali dalle più grandi alle più piccole. La Banca d'Italia fu chiamata ed aprì la filiale il direttore d'allora della sede di Firenze è mandato qui in missione dal direttore generale Bonaldo Stringer e questo direttore, il comandatore Giovanni Carloni, si trovò di fronte a una serie di problemi da risolvere. Noi abbiamo realizzato un documentario di una ventina di minuti che proietteremo nel corso di un convegno che faremo il 7 di dicembre e in questo convegno che sarà aperto dal nostro vice direttore generale il dottor Luigi Federico Signorini e poi dove parleranno diversi studiosi degli aspetti economico-politici che ha coinvolto Trieste in quel momento faremo anche delle visite guidate delle visite guidate aperte a tutto il pubblico a tutti coloro che vorranno intervenire sabato e domenica quindi l'8 e il 9 di dicembre e nel corso di queste visite verrà proiettato ancora il documentario e verranno anche seguiti gli ospiti da dei studenti del Nordio i quali sono stati appositamente istruiti dal nostro personale e faranno quindi una guida nella sede. Questo avvicendamento della Banca d'Italia con la Banca Austro-Ungarica in qualche modo non solo nella funzione economica ma anche nei luoghi naturalmente qui a Trieste non si ricorda più neanche dell'esistenza di questo edificio proprio perché è stato inglobato nel nostro attuale edificio. Bene, a questo punto noi diamo la linea a Marco Virgilio per le previsioni del tempo al termine di A voi la linea rimanete su Telefriuli l'appuntamento del lunedì è con il punto di Enzo Cataruzzi che avrà oggi ospite in studio Franco Jacopo. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata. Buongiorno, eccoci con una settimana che inizia dal punto di vista meteorologico con delle correnti occidentali che potete osservare qua legate a questa depressione con minimi sulla Scandinavia qualche fronte che passa fronte veloce senza grandi effetti sulla nostra regione qualche goccia stanotte qua e là poi adesso pian piano si va verso un miglioramento e nei prossimi giorni poi le correnti tenderanno a provenire da nord-ovest con l'alta pressione che un po' si gonfia sulla zona della penisola iberica delle correnti che saranno però anche più miti in quota piano piano quindi avremo di nuovo un po' di inversione termica vediamo intanto oggi con queste residue debolissime piogge sulle zone più orientali che però i vanno ad esaurirsi per il resto schiarite un cielo poco nuvoloso a tratti anche sereno le nebbie e le foschie naturalmente nelle ore più fredde ma poi torneranno solo dopo il tramonto venti deboli prevalentemente settentrionali le temperature massime intorno ai 12 gradi andiamo pure a vedere domani è una buona giornata con cielo sereno o poco nuvoloso forse qualche addensamento sulle zone alpine locale un po' più consistente ma per il resto sole ovunque ecco foschie e nebbie nelle ore più fredde soprattutto si potranno manifestare sulla pianura ma anche nelle valli i venti deboli settentrionali con la temperatura che non cambia molto ma potrebbe guadagnare qualcosa nei valori massimi un calo invece in quelli minimi per effetto del cielo sereno ma diciamo tra 1 e 13 gradi ecco gli scenari di lungo termine con un po' di oscillazioni della temperatura vedete ma sempre comunque con una fase al di sopra della media potremmo cominciare forse a scendere ad avere un po' più di freddo solo a partire dal giorno 9 8 con qualche ipotesi di precipitazione per ora per il resto ben poco o nulla solo un tempo un po' grigio vediamo il riepilogo per finire ecco vedete questo tempo possiamo definire variabile in effetti ci saranno delle nubi basse a tratti di qualche nubi a livello medio però insomma un tempo tra variabile a tratti più grigio con delle foschie qualche nebbia e venerdì ancora un po' in intensificazione questa nuvolosità medio-bassa vediamo le temperature che non sono certo fredde comunque tra i 2 e i 13 gradi e poi potrebbe arrivare quella vedete possibili pioggia potrebbe arrivare quella perturbazione verso l'8 che è sotto osservazione naturalmente da alcuni giorni poi vedremo insomma la tempistica reale seguitici anche sul sito di Telefriuli come vedete alle mie spalle in home page con l'aggiornamento delle previsioni è tutto vi saluto ci vediamo più tardi di Telefriuli Grazie a tutti.